Eccolo qua comincia Filippo Marcianò, lo dite voi a Sky Sport che Manolas non è squalificato a vita come vorrebbero loro e in realtà perché nella formazione che proponeva sempre Sky e anche nella settimana di Roma Cesena non c'era Manolas che invece c'era e quindi Marcianò lo sottolinea. Andiamo avanti! Questo è un account che andrebbe eseguito, si chiama Sciottini con Piccinini, mi diceva il nostro Fasan che fa particolarmente ridere e qui durante Genoa Juve dice che l'incredibilometro è alle stelle. Evidentemente un fedelissimo delle telecronache di Piccinini su Mediaset. Odio tutti, si capisce anche dall'account ma io non lo leggo, stasera se te fischiano le orecchie so io che mi sto a spippettare pensando al tuo gol e il riferimento è ufficio all'Anto, sarebbe Antonini dopo il gol con la Juventus, il gol del Geno. Fasan ci mette tutto dentro, non è che fa filtri. Marco Eremita ricorda Napoli-Roma una festa a tutti i santi. Noi non commentiamo, Paola Binetti invece la commentiamo perché non può mancare nella nostra rassegna. Napoli-Roma 2-0 con 4 puntini di sospensione perché 3 non bastavano. La Roma ancora sotto schiaffo. Oltre alla Juve, Napoli e Lazio puntano alla vetta. Speriamo che la Roma tenga, hai capito? Fa proprio l'analisi. E poi il giorno le rispieghiamo a Paola Binetti. Nei preferiti di una sola persona, giustamente. Sì, pure troppo. Poi Ansa, calcio e sport, Ansa lo seguiamo spesso perché... La redazione romana immagino. La redazione romana ci regala sempre delle chicche. Calcio-Juventus, Pirlo felice per il go. Martedì, partita fondamentale. E poi ancora invece questa è Sky Sport. Nella Juventus è entrato l'Isteiner. Il laterale svizzero potrà incidere? Si domanda. Vediamo le risposte. Eccola qui. Mapu-Gamba-Ambigua. Anche questo è l'account del Canaro. Sì, certo, se la sala prova è libera, ha voglia. Potrà incidere. Tutti spiritosi, i nostri romanisti. Massimiliano Allegri, questo invece è l'account ufficiale dell'allenatore della Juventus. Bene così. Ora testa su quella che è per ora la sfida dell'anno. Ci sarà bisogno di tutti i tifosi della Juve nel mondo. Fino alla fine, questo è l'account di Massimiliano Allegri. E Diana, prometti, giustamente, ma chi lo gestisce a sto profilo? Perché non si capacita che è proprio lui a scrivere. Foto c'ha Diana Priti. Eh sì, infatti non sottolineiamo troppo. Tu vai sempre a beccare le cose io sulle quali sorvolo. Simone, De Cegli, Ekdal, Vasquez e Tomovic. Comincio a pensare che facciano parte della formazione del fantacalcio di Mazzarri. Perché effettivamente poi rendono particolarmente contro di lui. Sì, direi proprio di sì. E poi questo ci ha tenuto proprio Patrick Von Brook a farlo mettere, visto che questo Emiliano Luminoso aveva scritto a me e a lui. Io faccio finta di niente. Invece lui dice no, mettiamo la classifica. Ad oggi il Barcellona dovrebbe giocare i preliminari di Champions. Un altro miracolo targato Luigi Enrique. Eh, fa molto ridere. Lo sta facendo bene. No, fa ridere, fa ridere. Luigi Enrique. E sai, metterlo. Quando faceva bene non ne parlavamo. Adesso l'abbiamo fatto, l'abbiamo messo del paginone. Una volta sette li abbiamo messo io perché... Vincendo le tue resistenze. Grazie.